Ciao a tutti, in questo video vediamo come si crea un personaggio non giocatore, un cosiddetto PNG in italiano o NPC in inglese. A cosa può servire un personaggio non giocatore? Un personaggio non giocatore ci dà delle informazioni ulteriori sulla nostra storia che stiamo creando. Un personaggio non giocatore può assegnarci una missione per esempio, oppure ci può dare il premio degli oggetti proprio per aver completato alcune missioni, oppure ci può reindirizzare ad una pagina web per approfondire l'argomento che stiamo trattando. Quindi è un personaggio che noi possiamo posizionare all'interno del mondo Minecraft, ne possiamo posizionare tanti di questi personaggi, che ci aiutano e ci sostengono nel completamento del mondo e della storia che abbiamo pensato di descrivere con il mondo Minecraft. In questo video vedremo come creare e posizionare semplicemente il personaggio non giocatore, alcune funzioni basilari e non ci addentreremo nella gestione di impostazioni un po' più avanzate che sono quelle dei comandi. Vediamo adesso come si utilizza allora questo personaggio non giocatore. Sono all'interno del mio mondo Minecraft e come vedete qua ho un cartello e una piccola lavagna che danno delle comunicazioni. Me le devo leggere e comunque sia non sono il massimo della comunicazione o della interazione perché poi le devo andare comunque a posizionare sulle mie costruzioni. Vediamo invece come si presta meglio l'utilizzo del personaggio non giocatore. Clicco il tasto E per accedere al mio inventario, posso fare una ricerca, siccome ho la mia impostazione in italiano, come vedete gli oggetti sono tutti in italiano, io digito PNG e ho l'uovo di PNG. Diversamente avrei potuto cercarlo tra la scheda della natura andando ad espandere questo pulsante e prendendolo dalla penultima posizione. Siccome l'ho già preso non mi resta che chiudere questa schermatina. Come funziona l'uovo di PNG? Innanzitutto lo devo prendere tra le mie mani. Con il tasto destro, se io lo provo a mettere, non riesco. Come mai? Questo perché per posizionare un uovo di PNG dobbiamo digitare la lettera T della nostra tastiera e scrivere slash WB. Questo ci permette di darci l'abilità di costruttore del mondo. Cioè WorldBuilder, WB. Tasto destro e adesso riesco a mettere un personaggio. Tasto destro, tasto destro. Ho messo alcuni personaggi non giocatori, NPC. Con il tasto sinistro, se io clicco sopra il personaggio e sono in modalità WorldBuilder, questo viene automaticamente distrutto. Ecco perché bisogna impostare la propria modalità WorldBuilder quando si sta pianificando l'utilizzo del personaggio non giocatore. Lo si posiziona dove si desidera e una volta che abbiamo terminato il nostro posizionamento, ci togliamo dalla modalità WorldBuilder, premo il tasto T, digito slash WB, mi tolgo dalla modalità WorldBuilder e adesso con il tasto sinistro non ho uccido più il mio giocatore. Tasto sinistro. Tasto destro, quando sono in modalità non WorldBuilder, tasto destro, accedo alla interazione che ho progettato quando ho deciso di inserire il personaggio. Per adesso non abbiamo inserito niente, quindi questa è la schermata che noi vediamo. Mi rimetto in modalità WorldBuilder, T slash WB, premo invio, elimino questi tre personaggi e mi concentro sul primo. Tasto destro e accedo alla schermata di modifica del personaggio non giocatore. Gli posso dare un nome, guida per esempio, posso modificare la sua finestra di dialogo e digito benvenuto in Minecraft Education Edition. Clicco sulla X, ritorno nella finestra di dialogo, qui posso selezionare alcune skin del nostro personaggio, le faccio vedere tutte. E una volta che ho selezionato quella che desidero, clicco sulla X e torno a questa schermatina. Mi metto in modalità non WorldBuilder, tasto destro ed ecco che adesso riesco a vedere ciò che ho scritto poco fa. Abilito nuovamente la modalità WorldBuilder perché vi faccio vedere le impostazioni avanzate. Clicco e abbiamo due parti, aggiungi URL e aggiungi comando. Aggiungi comando ve lo faremo vedere in seguito. Adesso clicchiamo su aggiungi URL e qui possiamo digitare per esempio www.wikipedia.it, modificare l'eventuale pulsante in wiki. Qua potrei digitare un link molto più lungo. Con questo pulsante cancello, torno indietro, mi rimetto nella modalità non WorldBuilder, tasto destro e vedete che questo pulsante blu mi indica un link esterno. Se io clicco mi parte il mio browser e si posiziona sull'indirizzo www.wikipedia.it. Questo torna utile qualora volessimo reindirizzare i nostri studenti in pagine più dettagliate. Possiamo inserire un massimo di 6 interazioni tra URL e comando. Vi faccio vedere l'esempio. 1. L'URL non lo inserisco, non succede niente. 3. Inserisco un quarto URL e poi faccio finta di aggiungere il quinto e il sesto oggetto sotto forma di comando. Il quinto non inserisco nessun comando e non abito la modalità pulsante. Il sesto non scrivo nessun comando, abito la modalità pulsante e scrivo 6. Come vedete in basso io non ho più modo di aggiungere nient'altro. Ci sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6 macro blocchi. Torno indietro, mi metto in modalità non WorldBuilder per verificare il buon funzionamento di quanto progettato. tasto destro e vedete che ho 1, 2, 3, 4 pulsanti colorati blu, che sono quelli di tipo URL, cioè browser. E poi ho un quinto blocco che mi indica il sesto passaggio associato al comando Minecraft, di cui però non abbiamo inserito niente. ed un quinto che viene eseguito comunque sia all'apertura di questa schermata. Anche in questo caso quel comando che abbiamo scritto non esegue nessuna operazione. Tasto destro, mi sono messo in modalità WorldBuilder. e andiamo a cancellare tutti questi comandi, gli URL, lasciando soltanto questo qui. Torno indietro e credo di aver concluso. L'ultima cosa che vi voglio ricordare è che quando voi entrate in un mondo, siete sempre in modalità WorldBuilder false, vi dovete mettere in modalità WorldBuilder true quando volete posizionare i vostri oggetti o quando volete testare i vostri personaggi. Il comando slash vb è una sorta di bandierina che vi dice WorldBuilder abilitato, WorldBuilder disabilitato. Con questo è tutto e ci vediamo al prossimo video.